Attenzione, questo video potrebbe portarvi ad avere la casa più ordinata. Tutti a casa abbiamo una lavanderia che spesso è veramente disordinata. Ebbene sì, anche la mia lavanderia è veramente disordinata. Mia moglie si lamenta e io voglio trasformare questa lavanderia in un luogo un po' più ordinato e funzionale. Dopo tante ricerche la soluzione mi è arrivata da Molbu, una mensola per lavatrice per cercare di ordinare il tutto senza dover forare i muri. Tre colori a disposizione, bianco, nero e grigio, io ho scelto ovviamente il bianco. Tutto in acciaio inox, super salva spazio. Avrà un'altezza di 166 cm, una profondità di 24 cm e una larghezza di 65 cm che permette di poter infilare dentro praticamente quasi tutte le lavatrici. Magari prima di acquistarlo controllate quanto è grande la vostra. Uno, due, tre ripiani. Piedini per poter regolare in terra l'altezza se il vostro pavimento non è regolare. L'ho scelto anche perché dietro ha una struttura a croce che lo rende più stabile e secondo me più funzionale. Può essere utilizzato sopra la lavatrice, sopra il water oppure sopra dei contenitori che voi reputate importanti nella lavanderia. Un acciaio inossidabile che lo rende ovviamente antiruggine impermeabile. Trovate il link per l'acquisto ovviamente in descrizione. Piccolissima spesa ma tantissima resa. Montiamolo insieme e guardiamo il risultato finale. La confezione è arrivata perfettamente da Amazon, pesa 4,4 kg. Questo è quello che avete sballato e avete le comode istruzioni per montarlo. Anche qui abbiamo il nostro fantastico gift box che però contiene un comodo cacciavite, tuttofare e le viti per comporlo. Piedini e fascette per il fissaggio a muro eventuale, viti per il montaggio. Sì, è l'ora del montaggio! Prodotto montato, andiamo a metterlo in lavanderia. Ho posizionato il melbu dietro alla lavatrice. Lavanderia perfetta, moglie felice, abbiamo risolto il problema. In descrizione trovate il link per poter acquistare questo comodo prodotto che ha anche un costo molto basso, attorno ai 50 euro. Ve lo consiglio, rimanete connessi per tanti video, tanti argomenti. Ciao ragazzi! Bene, ora puoi fare la lavatrice.